Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Durante la parata del Trooping the Colour, il ritorno di Kate Middleton, la parata in pompa magna, i principini che danno spettacolo ma soprattutto la Boyle Family riunita sul balcone di Buckingham Palace malgrado il momento difficile fatto di malattie e liti. L'evento che festeggia il compleanno del sovrano è stato un trionfo, con i Windsor riuniti per le migliaia di sudditi che non hanno smesso di applaudire. Sul balcone, Kate e William si scambiano uno sguardo che non è passato inosservato. Parla l'esperta. La moglie di William ha preso parte alla tradizionale parata, seduta nella carrozza dietro al sovrano con i tre figli. La famiglia reale, guidata dal principe William a cavallo, ha sostenuto Kate Middleton nel suo ritorno alle scene reali. Poi la principessa si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace con la famiglia per il saluto alla folla. Elegante come al solito, è apparsa dimagrita e sorridente, anche se a volte pensierosa. Accanto a lei, ad appoggiarla come sempre, suo marito, il principe William. Tra loro uno sguardo, che nel silenzio, diceva più di mille parole. Gli esperti non hanno dubbi. Questo è The Look of Love, ovvero lo sguardo dell'amore. Per qualche istante William e Kate Middleton, sul balcone con i tre figli per salutare il pubblico a corso ad assistere al Trooping the Color, si sono guardati scatenando le analisi di chi si intende di linguaggio del corpo.